Tra gli elementi fondamentali per l'utilizzo delle apparecchiature da DJ c'è il pitch control. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ciao io sono Nejo e questo è un canale in cui si tratta di DJ sotto tutti i punti di vista, da la musica, la tecnica e quant'altro. È arrivato il momento di parlare di uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda le apparecchiature da DJ ovvero il controllo sul pitch e cercheremo di analizzare questo strumento, meglio questa parte di strumento, nelle varie apparecchiature e anche nell'evoluzione che questo ha avuto nel tempo. Il pitch control che cos'è? È un cursore di solito posto alla destra del piatto o lettore che serve per regolare la velocità del brano che viene suonato. C'è lo zero nel mezzo e scorrendo verso il basso si aumenta la velocità, invece scorrendo verso l'alto si diminuisce e serve per mettere a tempo un disco con quello che sta suonando dall'altra parte. La logica di questo viene dal vecchio piatto giradischi, ovvero aumentando la velocità con cui gira il piatto si aumenta la velocità del disco e si aumenta anche di conseguenza la tonalità della nota di riferimento e così all'opposto alzando verso l'alto si diminuisce la velocità con cui gira il disco e quindi la velocità del brano. Per quanto riguarda giradischi si tratta di un procedimento meccanico e quindi c'è questo cursore che a cui corrisponde l'indicazione della velocità per il piatto. Nel corso dell'evoluzione il cursore del pitch è diventato digitale e è associato a varie funzioni, ovvero si può cambiare anche il range con cui si modifichi alla velocità del brano. Se per quanto riguarda un piatto si va solitamente da più 8 a meno 8 adesso si può andare a qualsiasi tipo di velocità fino alla velocità massima, ovvero più 100% e meno 100%. Ci sono veramente tutti i tipi diversi di pitch adesso, dai controller più piccoli ai lettori più evoluti. E la prima cosa che salta all'occhio è la lunghezza del cursore. Teniamo presente che se il cursore è abbastanza corto sarà molto difficile che possa essere preciso perché appunto manca lo spazio di manovra necessario per poter dare valori diversi al nostro intervento. Ecco quindi che molti controller da DJ i più elementari hanno tendenzialmente un pitch piuttosto piccolo e ciò corrisponde anche ad un'effettiva scarsa precisione nell'intervento. Diciamo fondamentalmente che il pitch in un controller per DJ di quelli più base serve soprattutto per aumentare e diminuire la velocità generale piuttosto che per mixare. Ovviamente si tratta di un modo per prendere confidenza con lo strumento. Così come uno degli elementi fondamentali dell'utilizzo del pitch è la sensibilità che quella è assolutamente personale. Evolvendosi nelle apparecchiature si sono create due grandi scuole di pensiero. Quella di chi mixa con il pitch e di quella di chi mixa con il jog. Del jog ne parleremo in un video specifico. Questo perché in un piatto meccanico l'intervento sul jog sulla parte centrale che corrisponde alla parte centrale del disco era molto più difficile ed era sinceramente di rifinitura perché un intervento pesante comportava lo spostamento della puntina e quindi un rumore fastidioso oltre che la perdita di controllo sulla velocità. C'era quindi bisogno di intervenire in maniera abbastanza definita in modo da apporre dei piccoli aggiustamenti per far riallineare i dischi e poi andare ad aumentare o diminuire la velocità. Lo vedi subito un DJ abituato a suonare con i vinili perché ha la mano destra sempre sul pitch e scorrendo anche attraverso lunghi movimenti in alto e in basso cerca di individuare fin da subito il tempo giusto e poi a portare i correttivi. Un DJ di nuova generazione tende invece tendenzialmente a muovere anche con movimenti piuttosto ampi il jog perché è abituato fin da subito ad intervenire su di esso non incorrendo in particolari problemi anche con dei movimenti piuttosto bruschi. È quindi evidentemente molto importante la sensibilità sul pitch soprattutto per chi è abituato ai vecchi piatti. È arrivato anche la modalità scratch ovvero nel quale possiamo attraverso un supporto digitale sia su CD o su vinile utilizzare il piatto o CDJ per suonare i brani che vengono riprodotti dal computer ovvero il pitch riproduce meccanicamente un intervento su un supporto digitale. In questo modo possiamo combinare la manualità del piatto del lettore con tutto ciò che il software da nell'utilizzo delle canzoni nella scelta e nell'effettistica. Ecco che il pitch è diventato anche un tipo di effetto soprattutto grazie al poter ampliare e diminuire il range in maniera anche piuttosto importante. Sicuramente con le attrezzature più evolute sia di lettori e piatti ma anche controller e software non ci sono grandi problemi sul pitch e si tratta semplicemente di prendere la manualità giusta con il tipo di strumento in cui si ha a che fare. Quando ti trovi a provare un nuovo strumento sia nella scelta di un acquisto da fare o anche quando si trovi in contesti nel quale utilizzi l'attrezzatura di altri è opportuno andare fin da subito a capire come lavora il pitch, come risponde al tuo intervento e come intervieni quando devi apportare dei correttivi perché ci sono dei controller anche molto carini esteticamente ma nel quale il pitch è assolutamente inutilizzabile e questo si scopre soltanto provandoli e intervenendo proprio sullo strumento. Non mi sento di consigliare dei prodotti o di sconsigliarne degli altri. Sicuramente nelle fasce più basse o tutto ciò che è la gamma di prodotti per tablet o mobile il pitch difficilmente è affidabile mentre nei prodotti più per dj per console eccetera non ci sono grandi problemi. Purtroppo non ci sono delle regolazioni sul pitch che ne consentono di modificare la sensibilità e quella a seconda del father utilizzato si tratta di prenderci confidenza e capire se è di nostro gusto o meno, cosa che invece può cambiare per quanto riguarda i jog. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere se l'argomento ti interessa, se vuoi approfondire altri aspetti tecnici legati alle console, i controller e quant'altro e nel frattempo continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.